Numero 5. Le Ilunga BL Tour One sono cuffie con assistente vocale e Bluetooth 5.0. Queste cuffie offrono un'ampia risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz e driver di 40 mm. Dotate di cancellazione attiva del rumore, forniscono un'autonomia di 25 ore in riproduzione con ricarica rapida che offre 2 ore di uso con 10 minuti di ricarica. Nonostante siano massicce e pesanti, il loro comfort e versatilità le rendono perfette per lunghi periodi di utilizzo. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 4. Le Ilunga BL Live 660 NC portano la qualità audio a un livello superiore con un suono neutro che surclassa i modelli precedenti. La cancellazione del rumore, particolarmente efficace sulle basse frequenze, e una batteria che dura fino a 50 ore, le rendono ideali per lunghi viaggi. Tuttavia, la comodità non è il loro punto forte e l'assenza di una custodia è un piccolo svantaggio. Con una connettività avanzata come Bluetooth 5.0 e jack da 3,5 mm, mantengono la promessa di prestazioni solide e funzioni intuitive. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 3. Le cuffie Ilunga BL Tune 510BT si distinguono per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e la tecnologia Bluetooth Multipoint. Nonostante il design poco curato e l'isolamento passivo non eccelso, offrono una ricarica rapida, 10 minuti per 4 ore di riproduzione. Dotate di driver da 32 mm e una risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz, sono perfette per sessioni musicali wireless prolungate. Tuttavia, mancano di Dolby Surround e di un connettore jack tradizionale. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 2. La Ilunga BL Tune 760 NC è una cuffia di qualità con microfono e tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Dotata di Bluetooth e comodi comandi su padiglione, si distingue per la sua eccellente versatilità e autonomia di 35 ore. Viene fornita con un cavo di ricarica USB Type-C e un cavo audio rimovibile. Tuttavia, l'audio wireless è di qualità base e potrebbe risultare limitato nel traffico urbano. Con un diametro dei driver di 40 mm, risponde a una frequenza da 20 a 20.000 Hz e pesa solo 220 g. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 1. Le Ilunga BL Club 950 NC offrono una solida esperienza audio grazie all'equalizzatore via app e alla modalità ambiente. Con il Bluetooth 5.0 e il filtro adattivo per la cancellazione del rumore, le prestazioni sono di buon livello. Tuttavia, la cancellazione del rumore potrebbe essere più efficace sulle basse frequenze e non sono l'ideale per le chiamate. Dotate di altoparlanti da 40 mm e una risposta in frequenza che va da 16 a 22.000 Hz, vantano un buon tempo di riproduzione di 25 ore. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Trovi il link di questo prodotto in basso.